Noi siamo come Comune di Cava di Tirreni soci dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche che ha sede a Faenza. Molti eventi che sono organizzati sono proprio coordinati con l'AECC di conseguenza abbiamo un logo, abbiamo una ceramica cavese e l'associazione da diversi anni ricorda questa giornata terribile purtroppo, sollecitando gli artisti a creare delle scarpette rosse in ceramica. Quindi questa manifestazione che io ho promosso di concerto chiaramente con l'assessore Garofalo e con l'amministrazione è proprio riferita a questo. È il momento di arte, è il momento di ceramica, è il momento delle donne, la violenza e l'arte. E poi la mostra in allestimento presso il complesso San Giovanni di due artiste cavesi. Sì, dell'associazione Isola di Samo, quindi l'associazione ha fatto questa richiesta. Noi abbiamo, come dire, coordinato le due cose, i due eventi, cioè la mostra, ci sarà prima una performance da parte di questi artisti e poi c'è la mostra, c'è il convegno, c'è la mostra. E dalle emozioni dell'arte a quello che poi è il tavolo di confronto che si terrà sempre presso il complesso San Giovanni. Lì ci sarà il confronto, lei ha organizzato, quello che è un confronto fra tutte le persone che hanno direttamente a che fare con le donne che hanno subito violenza e quindi quello che è il modo di approcciarsi alle donne e qual è il percorso terribile o comunque se seguito da sole diventa terribile, ma se invece coadiuvato da chi di competenza può essere un percorso che libera le donne. Assolutamente sì. Ritenevo opportuno rappresentare ed evidenziare che la denuncia fosse veramente l'unico strumento per uscire da quella che è la piovra della violenza. Il titolo Un'altra me rappresenta proprio la possibilità di uscire dal circuito della violenza se adeguatamente supportati dalle istituzioni e da tutti quelli che possono essere i soggetti coinvolti all'interno della richiesta di aiuto della donna stessa. Premisse le forze dell'ordine, ma può essere anche l'operatore del presidio ospedaliero se la donna si trova costretta ad andare in ospedale, può essere nel caso di specie un capitano della polizia municipale che interviene, il magistrato o addirittura l'operatore del centro antiviolenza. Vi voglio solo rappresentare un dettaglio. La locandina ha come sfondo la scarpetta rossa, che ovviamente è il 3 di union di questi due giorni, ma se notate bene è la scarpetta rossa del mago di Oz di Dorothy. Il segno deve essere anche positivo, sbattere le scarpette rosse, quindi da un momento di violenza, ritornare a casa, intese come ritornare alla propria individualità e ritornare alla propria autostima. Un bel messaggio di forza. Il tavolo di confronto poi vediamo che è affiancato da altri due momenti, quello teatrale e quello del flash mob. Esatto. Grazie alla collaborazione di tutte le associazioni che sono presenti sulla locandina siamo riusciti a organizzare sia un momento, una performance teatrale proprio concertata su quello che è il momento della denuncia e su quello che potrebbe essere una difficoltà comunicativa tra la vittima e il recettore della denuncia. e poi termineremo con un flash mob di cui non vi anticipo molto gli elementi perché mi piacerebbe molto che come abbiamo iniziato con l'emozione terminiamo con un'emozione così forte.